Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzuoli, visto che non è che c'è interesse però, eh? Vi voglio portare questa trailer reaction di X-Men 97 La nuova stagione di X-Men 97 Io ovviamente sto parlando del cartone animato Perché c'era ai tempi e io infatti voglio recuperarmelo Perché me lo ricordo da piccolo E non vedo l'ora appunto di recuperarmelo E ragazzuoli, cioè non so che dirvi se non iniziare Perché sono molto curioso e mi sono visto tipo 10 secondi, mannaggia a me Ho visto già qualcosa di molto interessante Ho detto ok, facciamoci il video e go go Power Ranger Sostanzialmente direi che cuffie alle mie orecchiette Oggi, signori, ho aperto la felpa Cioè in realtà oggi nel senso Ho aperto la felpa giusto per fare qualche skin diversa visiva Partiamo subito Via Guarda il finale di serie di X-Men sabato mattina Consulta la guida tv Uh, ah, i tempi Ok Non so se anche il doppiaggio è lo stesso del 97 Credo sia del 97 Sì, ok Comunque La tv Bellissimo La tv è fatta apposta che ricordasse quegli anni Questo io ho visto L'animazione L'hanno Rifatta Dile bugle Bellissimo Comunque mi sono già fatto uno spallere enorme La morte di X-Haver Però le fai Bellino Mi ricorda molto Invincible E sta cosa mi piace un sacco Bellino Ci sta Ci sta Cambio di look anche per i personaggi Bellino Uh Le sentinelle Figo Sta Mi è X-Men Carino Carino Nananana Uh Magneto Ecco Le ultime volontà E il testamento di Charles Xavier Tutto ciò che ha costruito Ora Appartiene a me Uh Bellino Bellino Signori Bellino Bellino Ho già detto Bellino Ma Che dire Molto Curioso Molto curioso Ovviamente Uscirà il 20 marzo E quindi Mi andrò a fare Un Recuperone Immediato Perché siamo Vabbè Quasi fine febbraio Però Prima del 20 marzo Vorrei farmi Il recuperone Così Vado in pari E dico Ok Figo A meno Mi sono già Spoderato La morte Di Xavier Quindi Come dire Un po' Sus Però Dettagli La cosa bella Di questi X-Men Che avevano un collegamento Con lo Spider-Man Del 94 Il cartone animato Del 94 Quello con la sigla Tutto Spider-Man Spider-Man Radio Spider-Man Quella così Molto Molto Bella E quindi E quindi Niente ragazzi Farò appunto Il rewatchione Cioè Rewatchione Il Watchione Non vedo l'ora Che esca Il 20 marzo Cioè Non vedo l'ora Che sia il 20 marzo Che esca Perché Sono veramente Gasato Potrebbe essere meglio Delle serie tv Probabilmente Sì Di alcune Potrebbe essere migliore Quindi sì E niente Fatemi sapere Cosa ne pensate Con un commentino Qui sotto E noi ci vediamo Al prossimo video Picca picca a tutti